Buonasera a tutti gli spettatori e tutte le spettatrici del settimanale di approfondimento di Contropiano. Parliamo di Venezuela perché ci sono svolte domenica scorsa le elezioni legislative per il rinnovamento dell'Assemblea Nazionale. Ricordiamo che cinque anni fa vinse l'opposizione e Guaidò poi il gennaio del 2019 si autoproclamò presidente del Venezuela riconosciuto da una sessantina di stati tra cui la maggioranza di quelli dell'Unione Europea. Le elezioni sono state caratterizzate naturalmente dalla situazione pandemica nonostante siano state approntate tutte le misure di sicurezza e seggi e dalla difficoltà di spostamento visto che il Venezuela subisce l'embargo statunitense che causa la penuria di carburante, un paradosso evidente in uno dei paesi che ha le più grandi e stimate riserve petrolifere. Ha vinto il gran polo patriottico nonostante una larga astensione, circa un terzo delle persone aventi diritto sono comunque riusciti ad andare a votare in un'elezione che è relativamente poco sentita rispetto a quella presidenziale. Nel 2005 quando c'era Chavez le elezioni per l'Assemblea legislativa avevano fatto molti meno votanti. Il gran polo patriottico esce quindi vincitore con circa il 70 per cento delle preferenze. Elezioni importanti perché c'è stato un allargamento della rappresentanza di circa il 66 per cento e quindi una maggiore possibilità di essere rappresentate all'interno di questo perno della rappresentanza istituzionale venezuelana con 277 eletti. Elezioni importanti appunto perché questo organismo essendo dominato dalla posizione non aveva fatto una posizione costruttiva ma ha fatto un blocco e diciamo così aveva sfornato questo tentativo abbastanza goffo di golpe da parte di Guaidò. Nonostante gli inviti di Maduro all'Unione Europea di inviare osservatori non c'è andato nessuno se non a titolo personale zapatero e dopo poco tempo dopo pochissimo tempo l'Unione Europea all'unanimità ha fatto sapere che non riconosce queste elezioni. Stessa posizione ha tenuto l'Unione degli stati americani filo statunitense e una serie di stati tra cui il Canada e il Brasile. Si apre quindi una fase interessante perché nonostante le difficoltà economiche e le pressioni internazionali quello che era un che aveva bloccato di fatto l'avanzamento del processo beliveriano per fortuna adesso è in mano al gran polo patriottico. L'Unione Europea insieme a altri attori non riconosce le elezioni che ci sono state e Guaidò insieme alla parte della destra che ha scelto di non presentarsi le urne e che è la parte più transista di Guaidò e di Lopez che adesso sta in Spagna ha deciso di organizzare dopo queste elezioni vere delle consultazioni più che altro per coinvolgere la diaspora con seggi e circa 7000 seggi stando le loro dichiarazioni e soprattutto attraverso internet in una ottantina di paesi. Questo perché? Perché tendenzialmente a questo punto Guaidò perde di qualsiasi tipo di legittimità e la sua carica finisce il 5 gennaio è perché una parte dell'opposizione della destra ha accettato di presentarsi alle elezioni. Quindi vi è una spaccatura comunque in un quadro composito della destra, vi sono pressioni internazionali di USA e Unione Europea soprattutto e invece vi è una serie di stati con cui il Venezuela rafforza i rapporti diplomatici. Vedremo nelle prossime settimane quelle che sono gli sviluppi. Senz'altro una buona notizia perché è l'ennesimo fatto positivo dopo le elezioni in Bolivia che hanno visto la vittoria del MAS, il referendum per il cambiamento costituzionale in Cile e i movimenti che ci sono stati in Peru e in Guatemala. Probabilmente in America Latina le pagine più oscure del neoliberalismo sono ormai acqua passata. Grazie per la visione!